Tempo di rientro dalle vacanze, ma in aeroporto non sempre tutto fila liscio, complici voli in ritardo che spazzentiscono i viaggiatori italiani. Così a Duc, l'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, ha fornito una serie di indicazioni su cosa fare e su quali tipi di indennizzo richiedere. E si scoprono cose interessanti, per esempio diritto a passi, bevande e telefonate gratuite per i voli in ritardo di 2 o più ore su tratte aree inferiori a 1500 km o indennizza anche fino a 600 euro per voli superiori a 3500 km con ritardi di più di 3 ore.